ciao ma questa volta c'hai battuti sul tempo ho detto la prima parola di non passa nada 2023 no perché è uscita oggi una puntata registrata nel 2023 ti senti un po' meglio io sto registrando con una mascherina ffb2 io sto registrando con una nausea che animale è che io sto registrando con due persone estremamente ipocondriache quindi partiamo benissimo anche oggi in realtà è bello essere qui ed è bello perché parleremo di un aspetto che secondo me è fondamentale che fa parte della vita di tutti noi chi più chi meno vi auguro più e che molto spesso invece viene rilegato a quelle cose scabraosse delle quali non si può parlare stai parlando di sesso mi hai fatto a sgamarmi subito questo comunque è un podcast maggiori dell'età del consent come si chiama in italiano? consenso consenso consensualità l'età in cui potete fare questa tipologia di attività in realtà appunto oggi parleremo di una serie tv che ha sdoganato e che ci avete richiesto sì esatto che non ci dica che non vi ascoltiamo è un anno e mezzo che ce lo chiedete noi ci abbiamo messo solo un anno e mezzo ma non siamo note per la nostra responsabilità miglioreremo ve lo giuro oggi parleremo di sex education una serie di tre stagioni una serie netflix britannica anche se in realtà l'hanno fatta che sembra estremamente americana perché hanno creato questa scuola che di britannico non ha nulla ma è improntata proprio sulle scuole sulle high school ma tutto il resto è molto british tutto il resto è molto british gli attori sono molto british se lo ascolti in lingua originale non lo confondi sicuramente con l'americano e di cosa parla questa serie tv? parla di padelle ok no non lo so sex education di cosa può parlare? no beh intanto il protagonista non è il sesso è Otis Otis figlio di una sessuologa e di un ascensore ma che cazzo hai oggi? io ogni volta che lo vedo penso la stessa cosa perché? Otis ascensori mi piace essere Otis la marca è una marca di ascensore un saluto ai nostri amici di Otis ascensori ciao ragazzi non è una sponsorizzata allora Otis che è il figlio di una sessuologa quindi già qui vediamo un adolescente che ha una madre che fa un lavoro che può essere percepito come un pochino scomodo anche perché entri in casa loro e la casa è redata con falli e vagine e cose che potrebbero insomma cioè diciamo che se tu sei adolescente e porti gli amichetti a casa non vuoi vedere una distesa di cazzi beh perché no? io posso capire posso capire che Otis fosse in una posizione un po' delicata però cosa succede? che avere una madre che tratta così tanto un argomento che per gli adolescenti è molto importante anche per gli adulti fa sì che lui cominci a fare questo racket di consigli da sessuologo a pagamento all'interno della scuola ovviamente senza alcun titolo di studi a riguardo senza niente però certi consigli che dà effettivamente funzionano lo fa insieme a Meeve una ragazza bellissima e un personaggio fantastico puoi ripetere com'è questa? è bellissima ok è che la nausea mi fa un momento di silenzio per Meeve mi fa essere un attimo e niente quindi la trama della serie è proprio la vita di questo Otis le interazioni sociali che ha con i suoi compagni con varie storie sentimentali che crescono intorno a lui con la stessa madre che comincia una relazione e come sia preponderante il tema del sesso ma il sesso non visto in maniera negativa ma proprio come cosa che a quell'età là si comincia a scoprire si comincia a fare i conti con questo aspetto della vita che è un aspetto della vita che ha la sua importanza e viene molto ma neanche alleggerito però viene trattato in una maniera mi sento di dire corretta beh alleggerito nel senso di Italo Calvino cioè non è superficiale è leggero che è diverso è con il peso che dovrebbe avere senza la parte di morale cattolica senza la parte di tabù esatto se effettivamente noi fossimo informati su questi temi vero Giulia? esattamente infatti aspetta infatti oggi non parliamo solo di sex education ma parliamo di gliel'avevo fatta io l'intro devo fare un ruttino vai fallo che così poi riprendiamo fallo ma oggi le battute proprio si sprecano peccato che dovremmo cancellarle dovremmo parlare più spesso di sesso no potrebbero rimanere nei bloopers diciamo che comunque mi fa strano parlare di sesso con presente mia sorella vabbè ma vedi è un altro tabù questo però chi no tu fai sesso? ah che schifo non voglio saperlo ma primo beh allora non ha fatto un bambino quindi potrebbe anche non averlo mai fatto secondo ti ricordo che per un mese più di un mese e mezzo tre mesi io ho portato i tuoi strapon nel bagagliare nella mia macchina i miei strapon come se ne avessi una collezione quanti ti strapon hai? avevo uno no erano due però stavamo facendo il trasloco anni fa anni fa e lui non sapeva dove metterli e quindi mi fa no no ma ti ammeli tu ti ammeli tu e io sono il signor bagagliare della mia macchina per mesi con il terrore di venire fermata poi comunque quando mi li ha dati mia madre ha visto questa bella busta nel mio armadio l'ha aperta e fa oddio e niente e quindi sì mamma ho uno strapon faccio sesso la sessualità la sessualità è un aspetto fondamentale e complesso del comportamento e riguarda sia tutti gli atti finalizzati alla riproduzione sia per fortuna gli atti finalizzati alla ricerca del piacere oltre che gli aspetti sociali che si sono evoluti in relazione alle caratteristiche diverse l'ambito sessuale quindi investe la biologia la cultura la società la psicologia e quindi il termine sessualità è riferito ad aspetti psicologici sociali e culturali del comportamento sessuale umano quindi cosa capiamo che la sessualità è un fondamento dell'esistenza umana con questo possiamo dire che fa parte dei bisogni sì come mangiare dormire esatto esatto anche la sessualità si situa all'interno della piramide di Maslow di cui abbiamo parlato plurimamente in varie puntate che dovreste conoscere mi prego le conoscete andatevi a ascoltare su Spotify in realtà parliamo di sessualità ne iniziamo a parlare in modo un po' più chiaro della comunità scientifica solamente in relazione ovviamente alle malattie e alle patologie strano perché ma è una gioia perché l'idea che la sessualità non sia solamente riproduzione e che non sia solamente patologia ma possa essere qualcosa di bello piacevole importante beh è un'acquisizione che abbiamo molto 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 più in là nel 1886 il neurologo e psichiatra anche von Kraft-Hebbing divulgò l'opera Psicopatia Sexualis in cui le patologie sessuali vengono collegate a patologie psichiatriche quindi per la prima volta gli aspetti biologici vengono collegati a quelli psicologici poi papà al secolo Sigmund Freud a partire dal 1905 comunque a me Sigmund Freud sta sulle palle cioè te lo devo dire guarda credo sia aspetta che me lo segno nell'elenco delle cose nelle quali non me ne fotte una sega era un po' maschilista un po' fallocentrico lo era Franci era figlio del suo tempo e allora giustifichiamo tutti adesso no sto scherzando sto scherzando sto scherzando vai avanti scusa è durissimo lavorare così papà Freud appunto pubblicò nel 1905 varie opere in cui la sessualità viene posta al centro dell'attenzione non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psichico dobbiamo aspettare nel 1953 per parlare di rapporto Kinsey cioè un rapporto che descrive una realtà sessualmente statistica documentata con una quantità n di interviste quindi per parlare veramente di sesso in modalità non patologica aspettiamo il 1953 tu pensi a miseria è tanto eh sì e non solo vogliamo parlare di una risposta alle difficoltà che possono avvenire nella sfera della sessualità dobbiamo aspettare il 1974 cioè l'altro ieri l'altro ieri con la dottoressa Kaplan che scrive il testo nuove terapie sessuali in cui appunto propose una visione della sessuologia più aderente alla scienza e propone una serie di tecniche di intervento per le disfunzioni sessuali con dei metodi che sono sia di derivazione comportamentista quindi mansionali sia di derivazione psicoanalitica tutto questo popò di roba per dirvi che com'è la situazione dell'educazione sessuale e alla sessualità in Italia è una domanda retorica è una domanda retorichissima o retoricissima? retoricissima è una domanda retoricissima perché la situazione è una merda drammatica io posso dirvi che facevo una scuola in cui c'erano anche le suore e la prima lezione di educazione sessuale fatta alle medie l'ha fatta una suora che comunque ok può essere sbagliato di per sé o comunque non giusto per tutti diciamo così a seconda del metro di riferimento ma almeno tu l'hai fatta ci sono persone e Giulia secondo me ha cacciato fuori i dati che non hanno mai fatto un'ora mezz'ora 15 minuti di educazione sessuale a scuola nella loro vita e quindi poi ci chiederemo dove lo imparano ma questo per dopo esattamente questo proprio richiama questo dato che avevo recuperato ancora un anno fa e che è agghiacciante cioè l'Italia è uno degli ultimi stati membri nell'unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole altri stati che hanno la stessa modalità sono la Bulgaria Cipro Lituania Polonia e Romania i programmi che vengono proposti in questi paesi riguardano peraltro solo l'aspetto biologico della sessualità quindi tutto l'aspetto relazionale tipo la fecondazione esattamente tutto l'aspetto relazionale gli aspetti sociali psicologici o emotivi che fanno parte dell'esperienza sessoaffettiva dei ragazzi me ne vengono totalmente eliminati non ci sono la guida dell'ufficio regionale sugli standard per l'educazione sessuale in Europa proposta dall'OMS spiega che tutti i cambiamenti nello sviluppo sessuale sono anche influenzati da fattori biologici psicologici e sociali ergo l'educazione sessuale dovrebbe essere obbligatoria nel corso del ciclo scolastico questo in Italia ad esempio era stata proposta con una proposta di legge ancora nel 75 a partire da Giorgio Bini al quale sono succedute un sacco di proposte per introdurre l'educazione sessuale come materia curricolare chissà come mai non riusciamo mai a farlo vero? guarda tutto ad oggi ne è rimesso alle regioni che possono decidere di destinare dei fondi per istruire dei percorsi di educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole che però sono ottenuti principalmente da figure esterne all'ambito scolastico come personale medico infermieristico ostetriche biologi o psicologi ma in questo caso è difficile poter portare l'educazione sessuale nelle scuole proprio perché mancano i fondi e mancano i fondi perché non c'è una visione di benessere sessuale e quindi di benessere relazionale perché la sessualità appunto viene strettamente correlata alla moralità e all'idea che oh mio dio mio figlio non deve sapere certe cose mio figlio non lo deve sapere no dicevo parliamo degli anni settanta eccetera vorrei ricordare i figli anche noi figli degli anni ottanta anni novanta nei primi anni duemila finché esisteva Yahoo Answers direi anche a cavallo degli anni 2010 le domande più gettonate su Yahoo Answers probabilmente al pari di fatemi traducetemi questa frase dalla versione di latino o risolvetemi questa disequazione di secondo grado erano ho limonato con il mio raga sarò incinta mamma mia sì sì è vero è vero anche io frequentavo attivamente Yahoo Answers come si fa un pompino cioè erano cose abbastanza comuni e perché voi avevate Yahoo Answers esatto perché per me c'era solamente la sezione delle domande di cioè ma anche i top girl ringrazierò sempre cioè top girl per le perle che mi hanno fornito e che mi hanno permesso di decidere di fare questa professione grazie grazie c'è un altro tema molto caldo che se volete approfondiremo magari in un'altra puntata perché a non siamo esperti di questo se mai fossimo esperti di qualcosa a parte la dottoressa Giulia Disegna B non abbiamo dei dati ma è sicuramente un tema c'è stato uno shift sicuramente perché se da un lato si può sempre dire che la pornografia e i contenuti per adulti abbiano non dico aiutato a creare qualcosa di reale perché spesso non è così ma a come dire a contestualizzare certe cose a far vedere certe cose alle persone per quanto finte perché ricordiamo sono finte una volta dovevi andare in edicola a comprarti la cassettina dovevi comprarti Playboy dovevi no dovevi andare in un night in uno strip club oggi chiunque può accedere senza nessuna tipologia di veto anche perché non c'è neanche un come dire un pop up che ti dice sei maggiore di 18 hai più di 18 anni o no a qualsiasi sito porno gratis e quanta dell'educazione sessuale dei ragazzi e ragazze di oggi passa per i porno tantissima se non la mangi a parte ed è problematico da morire non problema perché poi nei siti porno puoi trovare un po' di tutto e se non hai una conoscenza iniziale puoi credere che quello che vedi sia la norma e quindi infatti ci sono un sacco di ragazzi e ragazze che poi si approcciano al sesso dopo aver visto dei porno o sentono grande frustrazione o alcuni commettono delle vere e proprie violenze pensando che in realtà sia giusto debba essere così quindi forse il fatto di portare la sessualità nelle scuole non è semplicemente per evitare situazioni di gravidanze indesiderate o per un punto di vista strettamente sanitario che è comunque importantissimo anche perché a volte causa anche abbandono scolastico esattamente è fondamentale parlare quindi di educazione sessoaffettiva e non solamente sessuale perché non dobbiamo basarci solamente sulla conoscenza del corpo ma dobbiamo basarci ancora di più nella conoscenza degli aspetti affettivi e sulla conoscenza dei nostri diritti cosa che appunto se deriva solamente da usufruire dei prodotti pornografici ok ho solamente una piccola parte della realtà e il più delle volte non è nemmeno particolarmente rappresentativa in parole povere no fare sesso non è semplicemente quella cosa che avete visto su Brothers diciamo che i porno sono un po' come sono per il sesso quello che i film della Disney sono per gli ideali romantici è verissimo e tutti e due ti mandano dallo psicologo e tutti e due ti mandano in terapia solo che stiamo attenti perché i rischi sono molto alti e in più mi viene anche da dire che un'educazione sessuale e psicoaffettivo sessuale nelle scuole va bene anche se è un affettivo sessuale grazie sia importantissima anche per quelle persone che magari e che esistono sono assessuali bravissimi e non lo sanno guarda ti dico anche questo che al momento non esistono nel nostro paese le ricerche scientifiche già questo dice un sacco esatto sulle conseguenze della mancanza di educazione sessuale ci sono però dei dati che ci danno qualche indizio e non sono esattamente rasserenanti rispetto alla consapevolezza dei ragazzi circa la vita sessuale esempio accesso alla contraccezione che mi sembra peraltro la punta dell'iceberg l'Italia è al 26esimo posto su 45 in Europa rispetto all'accesso alla contraccezione ricordiamo che la Francia di Marcon ha due mesi fa tre mesi fa approvato il regalo di preservativi ai 18 anni e a chi altro dobbiamo regalarli caspita se non a chi forse in questo momento beato lui li utilizzerà lì più altra cosa importante l'educazione sesso affettiva appunto non si basa solamente sulla sessualità ma parla anche di altro e dovrebbe parlare della diseguaglianza tra uomo e donna non solo come diseguaglianza biologica ma quel tipo di diseguaglianza che è capostipite di altre problematiche tipo i femminicini tipo l'omotransfobia tutti quei problemi che sono legati a una scarsa se non inesistente cultura e sensibilizzazione alla materia sessuale che invece dovrebbe essere fatta proprio nei luoghi dell'educazione della cultura cioè le scuole vado oltre a questo il tema che tra l'altro in questi anni ha avuto sicuramente un riconoscimento maggiore rispetto a quando per esempio ero adolescente io 10-15 anni fa il tema di una condizione clinica come può essere la disfunzione erettile oppure il vaginismo no? e quindi il tema delle endometriosi anche collegato e quant'altro quando io avevo 14 anni 15 anni 16 17 18 anni questo tema non era parlo di vaginismo ovviamente non se ne parlava e quindi al netto di qualche forum dove le persone condividevano le proprie esperienze senza peraltro alcuna base scientifica ma appunto sono esperienze non c'era informazione su questo non c'era informazione su questo tanto che io per esempio che ne ho sofferto poi scoperto che dovevo operarmi perché la mia era una condizione fisica non era esclusivamente una condizione come dire legata alla mia sfera emotiva ma ci ho messo anni per poterlo scoprire anche della formazione dei medici lasciamo perdere la disfunzione erettile che tra l'altro le paragono perché sono condizioni molto comuni psicologicamente carica il maschio alfa di un peso ingestibile soprattutto se molto giovane ultimamente questo sta cambiando ma devo dire che c'è ancora se ne parla ancora tanto po' quindi vediamo quanto sia importante e urgente pensare di fare qualcosa in questo senso perché non è nemmeno giusto che poi ci siano dei allora insomma già quando si è adolescenti ci si fa un botto di complessi se si può evitare di farsene di ulteriori e cercare di ridimensionare un po' ben venga ma aspetta anche perché stiamo vivendo un vero e proprio brain fuck stanno sempre nell'ambito ovvero viviamo comunque in una società che ha una continua diffusione di stimoli sessuali e sessualizzanti su tutto su qualunque cosa e dall'altra parte nel contempo esiste e viene portata avanti una grande difficoltà a parlare in maniera libera disinibita e aperta di un'esigenza che ci accomuna a tutti cioè quella sessuale per non parlare appunto di tutte quelle persone che hanno questa esigenza in quanto esseri umani ma che non la vedono riconosciuta ad esempio il diritto alla sessualità negato totalmente alle persone disabili certo o addirittura l'incapacità a comprendere che possono esistere delle persone che sono asessuali e che quindi non hanno questo tipo di necessità e vengono tacciate come appunto frigide o stavo cercando di non essere troppo triviale ma sicuramente portatori di ocolazione precoce o altre amenità come se effettivamente non si riuscisse a scrollare l'aspetto della morale dall'aspetto invece della sessualità che è una cosa meravigliosa che deve essere vissuta in modo pieno vivo presente e addirittura esiste una dichiarazione che è fondamentale che è la dichiarazione dei diritti sessuali la trovate facilmente in internet al worldsexualhealth.net questa dichiarazione spiega che i diritti sessuali sono basati sui diritti umani universali già riconosciuti nei documenti interrazionali e regionali sono riconosciuti nelle costituzioni e leggi nazionali tra gli standard e i principi sui diritti umani e nelle conoscenze scientifiche relative alla sessualità umana e alla salute sessuale insomma ragazzo ragazze ragazzi non aprite il vostro consulto privato come Otis e Maeve non fate servizi di divulgazione sessuale se non siete degli esperti ma cercate di informarvi se avete dei problemi delle difficoltà in quella sfera vi prego non vergognatevi questa è proprio la puntata più fuori dall'universo della colpa e del giudizio perché questa è una cosa su cui c'è tanto giudizio e ancora più colpa assolutamente ricordatevi che però tutti gli esseri umani intorno a voi e anche quelli ai quali non vorreste pensare hanno una vita sessuale oppure se non ce l'hanno potrebbe essere normale esatto se sentite che in questo momento la vostra vita sessuale o sesso affettiva non corrisponde a quello che desiderate ci sono delle domande ci sono dei dubbi delle paure delle perplessità o semplicemente non c'è gran chiarezza in come funziona scrivete alla dottoressa Giulia Tisegna no scrivete a no passa nada media ci trovate sempre online ma non solo il mondo e anche il mondo del web è pieno di colleghi sessuologi e colleghi psicoterapeuti della coppia potete chiedere aiuto esistono un sacco di possibilità ma vi prego non pensate che la vostra visione sia l'unica esistente il mondo di fuori è molto più ampio non abbiate paura non abbiate vergogna anche perché gli organi sessuali vino male ce li abbiamo tutti e auguro a tutti di poterli usare nel modo più piacevole che vi tenete più corretto ci ho detto date anche un'occhiata a sex education è bellissimo Gillian Anderson è particolarmente brava e il consenso raga la cosa che non può prescindere da un rapporto sessuale è il consenso assicuratevi sempre 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 e dirò sempre un'altra volta perché deve essere sempre che ci sia il consenso da entrambe o più esatto ma anche da noi stessi perché questa è una cosa di cui non si parla abbastanza fatevi delle domande su ciò che vi piace ciò che non vi piace e abbiate il coraggio di dirlo a voi stessi e anche ai vostri 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 partner uno o più che siano o anche quando siete da soli è importantissimo una cosa bella del mio lavoro è quando vado a fare gli incontri di educazione sessuale ai bimbi in quarta quinta elementare è una delle cose più belle del mondo è una delle cose fondamentali sulle quali partiamo a parlare non è tanto la storia dei cavoli o dei girini o perché la mia mamma ha avuto dei figli ma il fatto che tutti noi abbiamo la possibilità di dire sì o di dire no ad alcune cose l'educazione sessuale parte appunto dall'educazione all'ascolto di noi stessi e al consenso quindi il consenso è anche decidere che a me il bacino della zia Genovefa sulla guancia mi fa proprio schifo e non lo voglio e quindi ho il diritto di dire no e allo stesso modo tenere per mano un mio compagno di classe può non farmi piacere ho il diritto e il dovere di dire no e questo permetterà di dire no a delle situazioni che in futuro potrebbero avvenire e che sono sicuramente meno facili da gestire Marta ma quindi quando parliamo di educazione sessuale di sessualità sta per dire una delle mie canzoni preferite dai che canzone allora la canzone che ha affunto fungito fungo affungato affungato da educatore educatrice sessuale della nostra epoca è sicuramente dopo il video di What's My Age Again dei Blink 182 rock DJ di Robbie Williams sempre il video direi The Bad Touch di Blowdown Gang che tra l'altro bellissima voglio dire è piena di metafore quindi comunque è You and me baby ain't che quella comunque non è una metafora in realtà però è piena di di modo di dire però almeno sicuramente quella ha un po' destigmatizzato la questione ecco perché anche il parlare di sesso nelle canzoni in maniera molto chiara non è sempre stato fatto in maniera così evidente non vi stiamo consigliando di guardare Discovery Channel per imparare come si fanno queste cose però se vuole hanno domini 1999 ma è bellissimo ciao bellissimo bellissimo ciao a tutti ciao